Monsignor Camaldo non è indagato, è la precisazione fornita da Pietro Pesacane, avvocato di Monsignor Franco Camaldo, cerimoniere pontificio, illegale intervenuto sulla vicenda che nelle ultime ore ha coinvolto l'alto prelato originario di Lago Negro in provincia di Potenza, nello scandalo dei presunti preti pedofili e gay in Vaticano. A tirare in ballo l'alto prelato è stato Patrizio Poggi, ex sacerdote già invischiato tempo fa, in un caso di abusi su minori per i quali ha scontato una pena di cinque anni di carcere. Pozzi di recente ha raccontato ai carabinieri di Roma di un giro di ragazzi romeni, tra cui anche minorenni, adescati per soddisfarre sessualmente alcuni religiosi e avrebbe fatto anche il nome di Don Franco Camaldo. La denuncia dell'ex parroco contiene un lungo elenco di nomi e numerosi dettagli sugli accaduti sui quali la procura di Roma mantiene il massimo riservo, limitandosi a specificare che al momento non ci sarebbero indagati. Le dichiarazioni di Poggi, si è affrettato a dichiarare l'avvocato Pesacane, sono infondate, non sorrette da alcun riscontro e non hanno determinato l'iscrizione nel registro degli indagati per Monsignor Camaldo. Lo ha confermato anche il capo della procura della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, aggiunto illegale, che ha sottolineato come, dopo l'esposto di Poggi, la procura non ha proceduto nei confronti di alcun soggetto coinvolto. Monsignor Camaldo, tuttavia, non è nuovo alle cronache giudiziare italiane. Nel 2006 il PM di Potenza, Harry John Woodcock, lo ha ascoltato come testimone in una sua inchiesta e anche in relazione alla vicenda di Emanuela Orlandi. Nel 2010, invece, è stato coinvolto nell'inchiesta sulla cricca Balduccia Nemone, quella degli appalti dei grandi eventi. Sotto la lente dell'attenzione mediatica, infine, le frequentazioni capitoline di Camaldo, con molti vip e personaggi del mondo dello spettacolo, immortalate dai flash dei paparazzi, e che, dato il suo ruolo in Vaticano, hanno fatto discutere molto.